Bene, abbiamo qui un altro problema tratto dalla fase d'istituto dei giochi della chimica, fase che si è svolta sei giorni fa, il quesito numero 20 della categoria C. Allora, qui abbiamo una miscela di tre gas, che sono l'idrogeno formato solo dall'isotopo 1 dell'idrogeno, quindi quello formato da atomi con un solo protone, e il deuterio, la molecola biatomica anche in questo caso, dove abbiamo atomi di idrogeno, però contenenti anche un neutrone, che si scambiano, diciamo, uno dei due di ogni coppia si scambiano e quindi otteniamo due molecole di quello che potrebbe essere considerato un idruro di deuterio, quindi due sostanze elementari, una sostanza composta da due isotopi dello stesso elemento, quindi in realtà sarebbero tutte e tre sostanze elementari. Allora, questo scambio avviene con una certa velocità a 1000 Kelvin, quindi una temperatura piuttosto elevata, eccola qua, a questa temperatura, diciamo, questo scambio avviene in maniera abbastanza veloce, diciamo che la reazione è stata, diciamo, il recipiente, il sistema è stato caricato con queste concentrazioni, cioè con queste frazioni molari di idrogeno, deuterio, molecolari e di idruro di deuterio. Viene data la costante di equilibrio che è 4 e quindi noi non sappiamo se queste concentrazioni corrispondono già all'equilibrio che sarebbe la risposta A, oppure se il sistema deve tornare indietro verso i reagenti, che significa tornare, evolvere verso i reagenti, significa che un po' di idruro di deuterio si deve trasformare, deve avvenire la reazione inversa, perché la costante di equilibrio, le concentrazioni sono maggiori di quelle che darebbero luogo alla costante di equilibrio, oppure caso C, che è quello giusto, vediamo che è sottolineato, solo che dobbiamo capire come si arriva a questa conclusione, oppure il quoziente delle concentrazioni delle frazioni molari è inferiore alla costante di equilibrio e quindi per raggiungere il valore previsto dalla costante di equilibrio altro idrogeno e deuterio devono reagire per formare altro idruro. Quindi andiamo a vedere i calcoli che dobbiamo fare. Allora, prima, che cosa sono le frazioni molari? Qualcuno magari si spaventa perché vede il termine frazioni molari. Le frazioni molari sono appunto le frazioni delle moli, quindi del numero di molecole di idrogeno, per esempio, sul numero totale di molecole. Quindi se nel caso dell'idrogeno è 0,5 del di idrogeno, questo significa che una metà delle molecole in questo sistema è costituito da di idrogeno. Questa metà, 0,5, la possiamo anche chiamare 5 decimi, quindi quella di la frazione tra i numeri di molecole di idrogeno è il totale, 5 decimi, qui abbiamo i 3 decimi e qui invece abbiamo i 2 decimi. Chiaramente se noi sommiamo tutti questi decimi otteniamo 10 decimi, cioè 1. è sempre così, cioè le frazioni molari sommate insieme di tutte le sostanze presenti nel sistema devono per forza dare l'unità. Bene, allora la prima cosa che ci andiamo a calcolare è questo quoziente di reazione. Il quoziente di reazione è il quoziente che si calcola esattamente come si fa per vedere com'è la costante di equilibrio. Noi in questo caso non abbiamo le concentrazioni, le frazioni molari all'equilibrio, potrebbero anche esserle, però in generale non è detto che sia così. Quindi dobbiamo prendere quella del prodotto, c'è Hxd, scriviamolo così, prima, Hd alla seconda fratto la frazione dell'idrogeno col coefficiente che è 1 per la frazione di deuterio che è 0,3 e andiamo a calcolare sostituendo i valori e vediamo che dobbiamo fare 0,2 alla seconda, quindi 0,2 alla seconda fratto 0,5 per 0,3. Andiamo a vedere questo quoziente, ci dà 0,04 su 0,15. Questo chiaramente è inferiore, questo valore è inferiore a quello della costante di equilibrio che sarebbe 4. Se è inferiore vuol dire che nella linea che va da tutti i reagenti a massima concentrazione possibile di prodotto lungo questa linea ci troviamo la costante di equilibrio quindi possiamo anche vedere quant'è questa situazione iniziale. Cioè se questa concentrazione fosse 0, cioè se non si fosse formato per niente prodotto dovremmo avere la metà di 0,2 cioè la metà di 2 che ci dà 1 la metà di 0,2 sono 0,1 di frazione molare che dovrebbe andare a incrementare quella del deuterio che quindi sarebbe 0,4 se non ci fossero appunto prodotti formati e questa dovrebbe incrementarsi di 0,1 e quindi sarebbe 0,6. Quindi possiamo immaginare che c'è una situazione iniziale in cui nel recipiente sono stati immessi queste frazioni quindi il 60% di idrogeno e il 40% in moli di deuterio. Si aspetta dopo un certo tempo, per un certo tempo e questa è una situazione possibile. Come è anche stecchiometricamente possibile una situazione invece in cui si è ottenuta la massima quantità possibile di HD. Siccome il reagente è limitante, diciamo, qui c'è un eccesso di idrogeno, è evidente che l'idrogeno ce n'è di più di quello che potrebbe reagire, cioè di 0,4 che è il deuterio. Quindi se tutto il D2 dovesse reagire, noi qui otterremo un 0,8 che è la quantità massima, la frazione massima possibile di idruro di deuterio che possiamo ottenere quando il D2 si esaurisce e quando quindi si consumano anche una frazione molare di 4. Il denominatore è sempre uguale perché in questa reazione non cambia il numero di molecole totali. Quindi se abbiamo 100 molecole all'inizio, abbiamo 100 molecole all'equilibrio e 100 molecole in qualsiasi altra situazione. Per cui si possono sommare e sottrarre tranquillamente anche le frazioni visto che hanno tutte lo stesso denominatore. Quindi in questo caso sottraiamo 0,4 e 0,6 e ci ritroviamo con una situazione la situazione, diciamo, ottimale quella in cui si ottiene la maggiore quantità possibile di prodotto cioè 0,8 l'80% di prodotto e questa sarebbe la situazione un'altra situazione possibile. Allora, se noi prendiamo i due estremi cioè tra 0 e 0,8 quindi andiamo da qui a qui questo lo consideriamo la situazione con 0 prodotto e questa è la situazione col massimo e chiamiamo situazione prodotti la situazione reagenti. Allora, l'equilibrio starà da qualche parte lungo questa linea mettiamo che il rapporto il quoziente di reazione Q che abbiamo trovato domettiamo che si trova da queste parti adesso non ci interessano i calcoli precisi quindi qui il quoziente all'equilibrio è quello che chiamiamo costante di equilibrio qui deve dare K uguale 4 e siccome noi qui abbiamo un numero che è minore di 4 perché questo 4 quindicesimi fa circa 0,27 più o meno questo 0,27 e quindi vuol dire che noi stiamo qui vuol dire che la nostra reazione deve diciamo da quando abbiamo messo 40% di deuterio e 60% di idrogeno le cose sono andate avanti fino ad arrivare a questo punto e poi il problema ci chiede cosa deve ancora succedere e bene deve succedere che poi manca da fare tutto questo pezzo per arrivare all'equilibrio quindi qual è la risposta giusta la risposta giusta è che il sistema evolverà verso i reagenti verso i prodotti quindi la C che è quella appunto è sottolineata fino al raggiungimento dell'equilibrio possiamo fare anche una prova forse per capire meglio supponiamo che qui reagiscono un su cinque parti di idrogeno ne reagisce ancora un'altra e quindi l'idrogeno passi a 0, abbiamo colore da 0,5 passiamo a 0,4 chiaramente hanno reagito uno 0,1 come frazione dell'idrogeno allora deve reagire anche la stessa frazione a parità di denominatore di deuterio e quindi questo deve diventare 0,2 e mentre del doppio di 0,1 cioè di 0,2 deve aumentare il numeratore quindi questo numero che era 0,2 dovrebbe passare a 0,4 ci andiamo a calcolare adesso il nuovo quoziente per vedere se ci siamo effettivamente avvicinati all'equilibrio perché noi abbiamo fatto un pezzettino qua verso destra abbiamo prodotto abbiamo praticamente raddoppiato la frazione di idrogeno deuterato rispetto a quella che ci è data dal problema andiamo a vedere quindi abbiamo 0,4 alla seconda 0,4 alla seconda fratto 0,4 possiamo anche semplificare quindi qualcosa leviamo qua e rimane 0,4 riso 0,2 uguale 2 beh non siamo ancora arrivati a 4 però da 0,27 siamo arrivati a 2 quindi abbiamo fatto un notevole passo avanti diciamo che in questa freccia rossa qui adesso siamo arrivati parecchio più giù ci siamo avvicinati abbastanza all'equilibrio e questo è tutto diciamo più che sufficiente per risolvere il problema in un prossimo video andremo a vedere proprio di calcolare per esempio quali concentrazioni quali frazioni molari dobbiamo avere l'equilibrio e li approfitterò per introdurre il concetto di stato di avanzamento della reazione il grado di avanzamento della reazione